Che cosa hai pensato, Rula, quando hai visto Silvia scendere da quell'aereo vestita con quella veste? Intanto bentornata Silvia. Ho pensato alla felicità di tanti madri, ma di sua madre soprattutto, a quell'abbraccio straordinario che mi ha davvero toccato il cuore. In questo momento in cui siamo tutti lontani dai nostri cari, io sono lontana da mia figlia, penso a una madre che ritrova la sua figlia dopo 18 mesi di assenza forzata di questa ragazza che ha l'età esattamente di mia figlia e che sparisce e che viene sequestrata da un gruppo terroristico. Penso che avremo tutti dovuto soffermarci alla soglia di quell'abbraccio e lasciare tempo a Silvia di rielaborare quello che le era accaduto. Grazie.